Buon pomeriggio a tutti gentili telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con la nostra informazione che inauguriamo parlando della grave e delicata situazione venutasi a creare al porto di Brindisi con il sequestro della Ionian Queen, in pratica dalla serata di ieri non ci sono più navi di linea, navi passeggeri da Brindisi, le altre due per Valona, lo ricordiamo la Red Star One e la Ionian Spirit erano state già bloccate per decisione degli armatori e con il sequestro della Ionian Queen il settore brindisino degli operatori marittimi e turistici già in grave difficoltà subisce un colpo mortale e la crisi si scarica virulenta sugli operatori del settore i quali hanno già adottato procedure di lavoro part time e riduzione di salari per salvare le aziende ma oramai si vedranno costrette ad assumere provvedimenti di ridimensionamento delle attività o vere e proprie chiusure di aziende con istanze fallimentari dai propri creditori e conseguentemente il licenziamento del personale. Sono parole del consigliere regionale Giovanni Brigante il quale richiede al prefetto di Brindisi ma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero del Lavoro nonché al Presidente della Regione Puglia interventi diretti per dichiarare lo stato di crisi delle attività commerciali del porto di Brindisi per consentire di attuare sul territorio le misure urgenti di rafforzamento degli ammortizzatori sociali per le tante figure professionali che operano nel settore e che rischiano di rimanere a casa. Per quanto riguarda la locale autorità portuale si ritiene sottostimato e quindi insufficiente ad evitare lo stato di crisi del porto il programma dei 27 approdi croceristici di piccole e medie navi previste per il 2012, reso noto proprio dall'autorità portuale in un'iniziativa utile a diversificare l'offerta degli appuro di portuali ma inadeguati dal punto di vista economico per gli operatori locali. Di conseguenza per conservare il tessuto economico ma anche e soprattutto i relativi livelli occupazionali generati dalle attività portuali è necessario preservare i traffici marittici di collegamento con i porti greci ed albanesi ed avviare da subito delle politiche di diversificazione di linee commerciali con altre destinazioni. Dunque si richiede un forte intervento delle autorità preposte analogamente a quanto avviene in altre realtà, a Taranto ad esempio, dove la regione Puglia e lo Stato stanno operando al fine di risolvere la crisi del terminal container e richiediamo la stessa attenzione, dice ancora Brigante a nome del gruppo consigliare La Pruglia per vendola, attenzione per salvaguardare il settore dei traffici, merci e passeggeri nel porto di Brindisi, per i collegamenti con la Grecia e da oggi purtroppo anche per l'Albania a tutela delle imprese e dei lavoratori brindisini per non trasformare definitivamente il porto di Brindisi in una struttura destinata soltanto a traffici energetici ed industriali. Pensiamo sarà inevitabile che questo argomento, lo già è entrato di fatto nella campagna elettorale e anche nei programmi politici dei candidati, non si potrà prescindere da questa annosa problematica complicatasi ulteriormente definitivamente come dicevamo nella serata di ieri con il blocco anche della Ionian Queen. Veniamo ora alla cronaca con l'ennesimo duro colpo alla Sacra Corona Unita inferto alle prime luci dell'alba di oggi dalla Polizia di Stato. Si è operato principalmente a cavallo tra le province di Taranto e quella di Brindisi. Due le realtà particolarmente interessate, Manduria e Francavilla Fontana, hanno operato agenti della squadra mobile di Taranto ma anche i loro colleghi del commissariato di Manduria. 18 le ordinanze di custodia cautelare eseguite, 16 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, i reati contestati, associazione delinquere di stampo mafioso, possesso di armi e di esplosivi, attentati, tentati omicidi, rapine, estorsioni, traffico di stupefacenti e altro ancora. I provvedimenti sono stati chiesti dalla direzione distrettuale antimafia di Lecce nei confronti dell'organizzazione criminale che faceva riferimento al boss Vincenzo Stranieri, fra l'altro già detenuto in regime del 41 bis. In totale all'operazione hanno partecipato circa 90 agenti di polizia con il reparto cinofili della Polizia di Stato. L'operazione è denominata ancora Giano, un nome che si ripresenta nel noverare appunto questo tipo di operazioni di polizia. Tra i destinatari dell'ordinanza di custodia cautelare è anche la moglie di Stranieri Paola Malorgio, il genero Alessandro D'Amici, il cognato Giovanni Malorgio, il figlio Nazareno e ancora Pietro Tondo, Vito Mazza, Gianni Caniglia. Stranieri lo ricordiamo, ex braccio destro di Pino Rogoli, leader assoluto della Sacra Corona Unita, è in carcere da 27 anni, 19 dei quali trascorsi in isolamento. E ora vediamo i temi della campagna elettorale. Veniamo più che altro alle fasi ancora di approfondimento delle candidature, di individuazione delle candidature. Continuano infatti gli incontri per definire le candidature alle prossime amministrative della prossima primavera. particolarmente vivace, almeno nelle ultime ore, sembra essere il dibattito interno alla cosiddetta Quarta Coalizione, un'area politica nella quale si riconoscono diverse forze sociali, forze ambientaliste e quant'altro, ma che ancora non hanno trovato un filo conduttore, per così dire, una linea comune da presentare all'elettorato. E se vogliamo si colloca in quest'area la lista civica che supporterà l'avvocato Roberto Fusco, che ha già sciolto gli indugi e si è proposto alla guida di un gruppo di esponenti della società civile, che si propone e propone soprattutto il risanamento etico e morale della città di Brindisi. Vi proponiamo un frammento della lunga intervista del servizio speciale realizzato dal nostro direttore Torino Saponaro e che vi verrà proposta integralmente questa sera alle 21. Si è formato un gruppo così bello di persone, di cittadini di Brindisi, al quale dopo aver detto due o tre volte no, alla fine non ho saputo dire altro, perché sono bellissimi. Le persone poi man mano vedrete durante la campagna elettorale le conoscerete, molte di queste saranno presenti nella lista, sono anche moltissimi giovani, occorre rendere la città diversa, rendere attrattiva per investimenti e anche in termini di piacevolezza, di servizi, di cultura, di tutto e c'è quindi un patto anche intergenerazionale tra la mia generazione, tra la generazione anche più avanti della mia, dove ci sono anche il professor Catalano, il professor Caputo, grandi nomi importanti che hanno fatto la storia di questa città, dinanzi a tutta questa chiamata, non si poteva dire di no. È necessario far partire le bonifiche, ci sono fondi stanziati per le bonifiche già da anni e solo per disaccordi interni questi fondi non vengono sbloccati. Allora si proceda alle bonifiche, sono centinaia e centinaia di milioni di Euro e quindi poi si dà immediatamente in questa maniera lavoro a tutte le maestranze e brindisine. Come diamo lavoro? Diamo lavoro recuperandoci, facendo del bene al territorio, non distruggendolo, non facendo l'ennesima discarica, ma disinquinandolo. Questo è il giusto risarcimento per Brindisi, questi sono gli investimenti che chiediamo a Brindisi e poi subito dopo le bonifiche saremo in grado di presentare una zona industriale bonificata, infrastrutturata, non più pesantemente inquinata dove un'azienda che vuole fare abiti da sposa o altro, o componentistica o software, venga lì e si trova tutto sporcato di carbone. Noi dobbiamo creare delle zone industriali attrattive e appetibili. E intanto nel PDL, come già dicevamo nei giorni scorsi, si è arrivato ad un azzeramento, se vogliamo, delle candidature dopo la decisione soprattutto del candidato ex vice sindaco di Brindisi, Mauro Dattis, di tirarsi indietro. Sebbene lo stesso Dattis abbia lasciato e riconosciuto nella lettera dove spiegava la sua decisione anche la candidatura dell'altro possibile candidato sindaco, cioè Massimo Ciullo, di fatto comunque la segreteria provinciale, alla luce anche dell'ultimo congresso, del congresso provinciale dell'altro giorno, è arrivata ad un azzeramento se vogliamo delle candidature in atto per formulare anche possibili altri nominativi. Nuova Italia, la componente di dissidenti all'interno del PDL non ci sta e in un comunicato stampa si dice che riteniamo che da allora, da qualche settimana fa, nulla sia variato e che laddove non vi siano altre candidature giustificanti il ricorso alle primarie proposte proprio da Nuova Italia, dimostrando così il massimo rispetto verso tutti i concorrenti che si erano dichiarati disponibili, Mauro Dattis in primis, debba essere confermato come candidato del partito lo stesso avvocato Ciullo, tanto anche per una questione di coerenza e di logica conseguenzialità, altrimenti, dicono ancora Nuova Italia, risulterà chiaro che le primarie proclamate anche da Vitali e da Friolo volevano essere una mera operazione di facciata e se effettivamente celebrate si sarebbe pure corso il rischio di non vedere rispettate il risultato da parte degli stessi vertici del PDL, dunque novità sicuramente nelle prossime ore e nei prossimi giorni nel PDL brindisino. Cambiamo argomento cronaca sindacale, presso la Will di Brindisi questa mattina si è tenuta una riunione di settore, settore industria principalmente, per costituire il coordinamento sindacale intercategoriale presso la centrale Federico II di Cerano. Vediamo. È nato oggi presso la Will a Brindisi il coordinamento intercategoriale che si occuperà di monitorare la situazione a palti presso la centrale di Cerano che a breve dovrebbe essere cantierizzata. L'incontro è stato presieduto dal segretario provinciale Will Antonio Licchello, il quale ha dichiarato fra l'altro che la Will non parteciperà domani al tavolo tecnico previsto in Confindustria. Società e imprese che verranno dal nord, che molto probabilmente daranno in subappalto del subappalto ad imprese brindisine e perciò vedremo ancora una volta la insicurezza applicata nei confronti dei nostri lavoratori, ma anche di alcune imprese che molto probabilmente già avendo lavoratori in cassa integrazione ne inseriranno ancora degli altri e magari verranno a brindisi imprese che utilizzeranno gente che viene da fuori, non per essere masochisti nel non volere gente da fuori, ma in un momento critico come quello che noi stiamo vivendo e perciò in una disoccupazione allarmante preferiremmo e preferiamo come organizzazione sindacale tutelare il nostro territorio nei confronti di quel poco lavoro che ci sta nei confronti dei nostri cittadini, dei nostri lavoratori, dei nostri disoccupati. E come Will avete già chiesto l'intervento del commissario prefettizio Pezzuto? Sì, non a caso abbiamo già fatto due incontri, domani si farà un terzo incontro chiamato un tavolo tecnico lì in Confindustria, ma ritengo che la Will domani non si presenterà a quel tavolo, perché se i giochi sono già stati fatti noi non avalleremo nessun progetto, nessun programma da parte dell'Enel che possa parlare di subappalti dei subappalti. Partirà il 16 febbraio, dopo domani l'edizione 2012 della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, evento che anche quest'anno offrirà una vetrina prestigiosa e dettagliata alla Puglia e alla sua ricca offerta turistica e servizio. Puglia, terra di racconti. Con questo slogan la Regione Puglia sbarca quest'anno la BIT di Milano, la più importante vetrina italiana del turismo internazionale, per presentare agli operatori turistici alla stampa specializzata la propria offerta integrata per il 2012, dal mare all'enogastronomia, dalla natura alle tradizioni religiose, dallo sport agli eventi culturali, musicali e di spettacolo. La partecipazione della Puglia alla tradizionale Kermesse internazionale di febbraio conferma l'ottimo stato di salute del settore, uno dei più importanti per l'economia regionale, accreditato da un costante trend di crescita che colloca il brand Puglia ai primi posti delle destinazioni turistiche per il mercato italiano ed estero. Definito il programma delle conferenze e degli incontri ospitati all'interno del padiglione istituzionale, in calendario dal 16 al 19 febbraio prossimi. Due gli appuntamenti di rilievo, che vedranno la partecipazione del Presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, nella giornata di venerdì 17 febbraio. Alle 11, presso la Sala Gemini del Centro Congressi della Fiera di Milano, si terrà la conferenza stampa di presentazione degli ultimi dati sul turismo in Puglia nel 2011 e le previsioni per il 2012, a cura dell'Osservatorio regionale del turismo. Interverranno gli assessori regionali al turismo e alle risorse agroalimentari Silvia Godelli e Dario Stefano, con il direttore generale dell'Agenzia regionale del turismo Puglia Promozione Giancarlo Piccirillo. Testimoni al decezione, due personaggi di spicco della cultura italiana che hanno scelto proprio la Puglia come luogo di vacanze e di relax, il vignettista Giorgio Forattini e il cantautore Roberto Vecchioni. Sempre venerdì 17 febbraio, alle 18, all'hotel Four Seasons di Milano, il presidente Vendola con gli assessori Godelli e Stefano presenterà alla stampa agli operatori del settore la prima edizione dell'Atlante Rurale di Puglia. Coordinerà l'incontro il giornalista Rai Attilio Romita. Ma non solo. Nel centro di Milano, in piazza Beccaria, dal 16 al 19 febbraio, dalle 10 alle 19, la Puglia sarà presente con un'area open space per conoscere la varietà della sua offerta turistica. Un viaggio anche musicale nel caledoscopio di suoni, colori e sapori pugliesi, accompagnato dalla degustazione dei vini delle cantine più rappresentative. E a proposito di BIT, questa mattina presso il Salone di rappresentanza della provincia di Brindisi si è tenuta la conferenza stampa per illustrare la partecipazione della provincia alla BIT di Milano dal 16 al 19 febbraio, come ricordavamo anche nel servizio che avete appena visto. Vediamo anche questo. Mare, natura e no gastronomia, arte e cultura, sport e benessere, eventi e business alla 32esima edizione della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. La Regione Puglia e la nuova agenzia regionale del turismo Puglia Promozione presenteranno dal 16 al 19 febbraio un unico sistema di gestione e promozione della destinazione turistica Puglia come complesso integrato e flessibile di valori tangibili e intangibili realizzato attraverso la cooperazione dei diversi soggetti pubblici e privati organizzati per uno sviluppo turistico equilibrato e sostenibile. Nello stand della Regione Puglia sarà presente anche la provincia di Brindisi. La BIT rientra all'interno di una pianificazione già fatta alla fine del 2011 e una delle tappe più importanti del tutto il 2012. Noi riteniamo che questo appuntamento molto importante, questa fiera nazionale e internazionale possa rappresentare un'occasione in più per i nostri operatori per essere presenti. Noi puntiamo moltissimo sul turismo, i dati sono molto molto incoraggianti, 2 milioni di passeggeri nel nostro aeroporto di Brindisi ci fanno ben sperare. Certo non ci soffermiamo su questo dato, riteniamo che si possa fare molto di più, in questo contesto l'amministrazione provinciale di Brindisi sta investendo molto proprio per permettere al territorio di essere più apprezzato ma soprattutto per permettere ai tanti operatori che si interessano di turismo in questo territorio di avere quante più possibilità possibili proprio per essere più forti e più rappresentativi in un mercato sempre più importante come quello nazionale e internazionale. Rimaniamo in provincia Brindisi perché comincia questo pomeriggio il corso di formazione sugli stereotipi di genere voluto dalla Commissione Pari Opportunità della provincia presieduta da Maria Luigia Salvatori e dalla consigliera di parità Alessandra Amoruso. Gli sei appuntamenti settimanali che si concluderanno il prossimo 20 di marzo. Il corso di formazione è finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza e non solo gli addetti ai lavori sulle tematiche della parità, individuando possibili interventi per il miglioramento della condizione della donna in tutto il territorio provinciale. è in vigore la nuova targatura unica dei ciclomotori. I ciclomotori che circolano ancora con il contrassegno di identificazione a 5 cifre hanno l'obbligo di sostituirlo con una targa a 6 cifre. Il certificato di donità invece dovrà essere sostituito con il certificato di circolazione e per i trasgressori, questo è importante saperlo, è prevista una sanzione pecuniaria di 519 euro entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Ma ascoltiamo ulteriori particolari dal comando di Polizia Municipale di Mesagna. Le fredde giornate invernali spingono tutti a muoversi nelle arterie cittadine a bordo di comode e calde automobili. Ma non appena arriveranno le prime giornate primaverili, con il sole che riscalderà l'aria, giovani e meno giovani saranno tentati dal salire a bordo dei propri ciclomotori per camminare in città. Attenzione però, perché dal 13 febbraio è in vigore la legge del 29 luglio del 2010 che tratta le disposizioni in materia di sicurezza stradale, in particolar modo per i ciclomotori che dovranno aggiornarsi con una nuova targatura rivolgendosi alla motorizzazione civile. È stata una legge del 2010, la 120, che ha previsto un calendario per eseguire le operazioni di ritargatura dei ciclomotori. Viene previsto che il ciclomotore deve essere dotato di una targa in sostituzione del vecchio contrassegno a 5 cifre, quindi una nuova targa con 6 cifre. Viene previsto anche che il vecchio certificato di idoneità tecnica venga sostituito da un nuovo certificato per la circolazione, simile alla carta di circolazione dei veicoli. Queste sono le due novità significative. C'è stato un periodo di 18 mesi per cui potevano ancora continuare a circolare i ciclomotori con il vecchio sistema. In questi 18 mesi, a secondo dell'ultimo numero della targa, sono state calendarizzate le operazioni per evitare che gli uffici della motorizzazione fossero intasati da queste operazioni tutt'una volta. Il 13 febbraio è scaduto il termine ultimo. Per chi ancora non si fosse messo in regola con il cambio della nuova targatura? È prevista una sanzione di 519 Euro che dovrebbe essere pagata entro 60 giorni dall'accertamento della violazione. Quindi consiglio a quello di, per chi ancora non l'avesse fatto, di affrettarsi approfittando di questo periodo stagionale in attesa del periodo primaverile quando i ciclomotori saranno utilizzati più frequentemente. Quindi in questi mesi è possibile organizzarsi per ottemperare a queste nuove disposizioni. Il popolare Bruno Gambarotta questa mattina è stato ospite del Liceo Palumbo di Brindisi per presentare il suo ultimo libro dal titolo Le ricerte di Nefertiti, una piacevole lettura che attraverso le vicissitudini di alcuni papiri prende buonariamente in giro la società italiana, la cultura italiana soprattutto. Vediamo. Nell'ambito della manifestazione incontri con l'autore promossa dall'assessorato alla cultura della provincia di Brindisi, oggi gli studenti del Liceo Socio Psicopedagogico Palumbo hanno incontrato il giornalista, scrittore, attore, conduttore televisivo Bruno Gambarotta, autore del libro Le ricette di Nefertiti. La storia è raccontata nel libro ambientato a Torino dove un egittologo del Museo Egizio, nel catalogare una donazione ritenuta senza valore, scopre invece 12 papiri che sarebbero in realtà il ricettario di Nefertiti. Una lettura piacevole sia perché scritta molto bene da Gambarotta, con uno stile semplice e accattivante, con un linguaggio fluido, sia perché l'autore nel raccontare le vicissitudini di alcuni papiri prende buonariamente in giro l'attuale società e cultura italiana. Abbiamo con noi Bruno Gambarotta, è sicuramente un grande onore avere uno scrittore, un personaggio televisivo qui nella nostra scuola, ma non si tratta soltanto di una presenza fisica, anche una presenza letteraria in quanto i nostri alunni hanno nei mesi passati letto un suo libro Le ricette di Nefertiti e oggi sono protagonisti attenti e attivi. Per noi è una scommessa questa, cioè i ragazzi devono leggere, leggere, leggere per aprire i loro orizzonti, le loro menti e poi è importante anche avere il riscontro con chi scrive i libri. Un libro in cui si prende buonariamente in giro la cultura italiana e la società italiana è così? Italiana, torinese, poi se è italiano non lo so, se è certamente italiana sì, è una società basata sull'apparenza, sulla notizia, sulla comunicazione, sull'evento, ecco la parola evento, di ogni cosa che si fa bisogna costruire un evento, questa cosa mi è sembrata molto suscettibile di essere presa in giro, poi io stesso sono uno che partecipa agli eventi, io sono dentro fino al collo in questa società, sia chiaro. Un libro sicuramente scorrevole, adatto pure ad una giovane età come questi ragazzi insomma che hai incontrato oggi? Adatto spero di sì, nel senso che in realtà nel romanzo non ci sono giovani, i protagonisti hanno tre figlie, però le figlie sono probabilmente figure di contorno, non intervengono nell'azione. Tutti i protagonisti del mio romanzo sono da 40 anni in su, quindi loro possono vedere come si comportano gli adulti. Io ho la mia speranza che loro non facciano altrettanto, che si migliorino questa società. Giudicare dalle domande, però ho tanto entusiasmo tra i ragazzi, questo l'ha notato. Sì, sì, straordinario, non lo dico per piageria, io vado in giro per le scuole e non ho mai trovato un gruppo di ragazze così preparato, così coinvolto, così, purtroppo avendo io tutto un mio trascorso televisivo, molte sposte le domande sono sulla televisione di oggi, di ieri, su Celentano, fossi stato in un'altra scuola ma avrebbero parlato del Festival di Sanremo. E cominciamo a parlare di carnevale, nello specifico del carnevale ostunese, il carnevale di oggi, ma anche la rievocazione di antiche tradizioni che rischiano di essere dimenticate. Il carnevale ostunese è organizzato dagli assessorati al turismo, spettacolo, attività produttive. Quest'anno viaggerà nel tempo, partendo dai giorni nostri per tornare al passato. Lo scopo è quello di trascorrere qualche ora lieta, ovviamente, e di riproporre i più tradizionali momenti di spettacolo che solo qualche anno addietro facevano del carnevale ostunese, un importante appuntamento goliardico per cittadini, turisti e abitanti anche dei paesi viciniori. Il programma prevede un primo appuntamento giovedì 16 febbraio, nel pomeriggio, una festa per bambini con l'animazione del gruppo Gli Sventurati, con clown, artisti di strada, stand di degustazione, strabilianti sorprese per i più piccini. Poi domenica 19 febbraio, nella centralissima Viale Pola, sempre nel pomeriggio, ci sarà la presentazione del carnevale, sempre da parte del gruppo degli Sventurati, con diretta radiofonica. martedì 21 febbraio, sempre su Viale Pola, con la presenza di musica popolare e artisti di strada, anche la premiazione dei carri allegorici e la consegna di riconoscenti ai gruppi mascherati, sempre in diretta radiofonica. E poi l'ultimo appuntamento domenica 26 alle ore 16.30, in via Giovanni XXIII, con la tipica pentolaccia che ad Ostuni è ricordata con Spasciam, la pignata. Momento di gioia e di divertimento per ragazzi e non solo. Un appuntamento dedicato ad un ostunese doc, un ostunese per Ostuni, è infatti il titolo dell'intermeeting che si terrà nel pomeriggio di oggi alle 17.30 nell'auditorium della Biblioteca Comunale di Ostuni, dedicato alla poesia e alla prosa del professor Domenico Colucci. L'appuntamento all'intermeeting è organizzato dal Rotary Club Ostuni Valeditri a Rosa Marina, il patrocino del comune di Ostuni, e dal Lions Club Ostuni Host, dunque intermeeting, proprio perché sia Rotary che Lions organizzano una serata per questo giovane poeta ostunese, come vedete il novantenne, il professor Domenico Colucci. È tutto per il nostro Tg, al prossimo appuntamento per gli approfondimenti e le novità. Grazie per l'attenzione. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it www.trcb.it